Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù e i Suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma Egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai Suoi discepoli e diceva loro «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa chiese loro di cosa stavate discutendo per la strada ed essi tacevano. Per strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutesi, chiamò i dodici e disse loro «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo, disse loro «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Parola del Signore. In certi casi un gesto vale più di tante parole. Lo sapevano i profetti di Israele, grandi predicatori, che però a un certo momento vedevano che spesso e volentieri con le parole non si guadagnava granché. E il popolo di Israele, gli uditori di queste parole, facevano in qualche maniera l'orecchio piuttosto duro, sordo, si abituavano, non ci prestavano tante ascolto, pure le criticavano. Ezechiele si era sentito dire che la sua predicazione erano delle belle canzonette, che era bravo, ma propriamente Ezechiele non voleva divertire nessuno con le sue prediche. E allora cosa facevano i profetti di Israele ogni tanto? Facevano dei gesti simbolici, magari anche un po' strano, un po' strani. Osea si è sentito da dire sposo una prostituta, abbi figli di prostituzione, perché appunto tutto il paese, tutto il popolo si prostituisce dedicandosi agli idoli. Geremia si è sentito dire prendi la tua cintura e mettila nell'acqua di un torrente lì vicino a Gerusalemme, lasciala lì un po', poi prendila, vedrai che è marcita. E allora fatti vedere davanti al popolo con questa cintura, dicendo vedete? La cintura sarebbe fatta per aderire bene ai fianchi, per ornare degnamente un indumento e invece è marcita. Voi siete come questa cintura, israeliti, siete marciti. E tanti altri gesti del genere, appunto, hanno posto i profeti. E Gesù, sulla loro linea, anche lui non è stato da meno. Un gesto, appunto, conclude questo episodio evangelico. Gesù che abbraccia un bambino. Bambino, nell'antichità, contava poco e niente, perché non era ancora un adulto. Oggi i bambini sono, appunto, Sua maestà il bambino, come dice una locuzione un po' ironica, intelligente. Sua maestà il bambino. Il bambino è diventato l'oggetto di adorazione e anche di sfruttamento economico, pubblicitario. A parte poi altri tipi di sfruttamento, forse certamente anche ben peggiori. Ma il bambino, per essere bambini, essere ragazzi, non era un programma, come diceva già anche il buon Benedetto Croce. Essere giovani non è un programma, è un passaggio. E gli antichi, un po' rudemente, questo passaggio lo consideravano per piacere il più effetto che si può. Quindi il bambino contava poco, doveva diventare adulto, basta. E allora Gesù prende proprio quello che conta poco, quello che appunto può rappresentare bene la sua idea, se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servitore di tutti. Allora facciamo un esempio, eccolo qua, questo gesto affettuoso verso il bambino. San Paolo, questa idea del servo di tutti, San Paolo non ha conosciuto Gesù e non c'era in quel momento, ma ha capito meglio di tutti cosa voleva dire questa parola di Gesù e ne ha fatto il programma della sua evangelizzazione. Mi sono fatto tutto a tutti per salvarne ad ogni costo qualcuno. Tutto a tutti per il Vangelo. In particolare proprio nei confronti dei più deboli, dirà. Bene, la cosa interessante però è che questo gesto qui di Gesù è proprio l'espressione bellissima, una delle tante, della sua pazienza nei confronti dei suoi discepoli, nei nostri confronti. Perché per la seconda volta, la prima volta l'abbiamo sentita domenica scorsa, se ricordate, gli dice la gente che io sia, tu sei Cristo, però sappiate che il figlio dell'uomo deve essere rifiutato dagli anziani, ucciso e poi risuscitare. No, signore, non ti accadrà mai tutto questo. Pietro che aveva appena detto le cose giuste, tu sei il Cristo, quale Cristo però? È un Cristo crocifisso. Ah, questo qui non lo sapevo. Eh certo, chi se lo immaginava una cosa del genere? Nessuno poteva saperlo. E Gesù l'ha rimproverato quando Pietro ha detto «No, non è possibile che il Cristo venga crocifisso, non ci sta, non esiste, è inconcepibile per noi». E Gesù è stato durissimo. Vattene, torna dietro a me, Satana, cosa vuoi? Insegnare a me il mestiere? Tu sei discepolo, io sono il maestro, torna dietro e segui e taci e impara. Ha perso la pazienza in quel contesto Gesù. Dopodiché ha anche detto un'istruzione pesante «Se qualcuno vuol venire dietro a me, inneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Han capito i discepoli? Non han capito? Ma probabilmente poco, anzi probabilmente niente a giudicare da questo successivo episodio a proprio stretta vicinanza di racconto di Marco in cui un'altra volta Gesù dice «Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini i quali lo uccideranno ma il terzo giorno risusciterà». Tratta parentesi, vale la pena ricordare che secondo qualche studioso veramente molto esperto di lingue antiche questa parola qui sarebbe proprio uscita dalla bocca di Gesù e qui è in greco evidentemente Gesù parlava in aramaico ma gli studiosi proprio scafatissimi sono capaci di fare salto mortale all'indietro di ritradurre nell'antico aramaico quello che i Vangeli ci hanno consegnato in greco e se uno fa questa prova con questa parola di Gesù farrebbe che venga fuori veramente un'espressione molto molto coerente con la sua mentalità il suo linguaggio preferito i suoi giochi di parole perché Gesù era veramente anche uno molto come del resto tutti i profeti molto abile nel linguaggio molto incisivo vale la pena ricordarlo questa parola qui di tutti gli annunci della passione sembra veramente quella che ci fa una eco più fedele di tutte della voce del Signore cosa non da poco bene reazione dei discepoli reazione dei discepoli non è granché essi però non capivano queste parole e vabbè questo qui può succedere per quanto uno potrebbe dire ma veramente non è la prima volta è già la seconda lezione su questo tema bisognerebbe capire qualcosa di più e invece sembrerebbe che capiscano qualcosa di meno ma qualche peggio e avevano paura ad interrogarlo è una fotografia meravigliosa di quanto noi siamo re nitenti tendenzialmente oserei dire perfino costitutivamente almeno in certi casi renitenti ad aprirci alla verità della vita del Signore di noi stessi e più questa verità si avvicina e più noi facciamo marcia indietro abbiamo spessissimo miei cari fratelli e sorelle un'idea di noi stessi così ingenua che il bambino più bambino di questo mondo ci batte in maturità ci batte perché non è vero che noi viviamo progredendo qualche volta spesso e volentieri viviamo stagnando e qualche volta addirittura regredendo perché ma perché sulla verità facciamo una censura di quelle potentissime che nemmeno quelle di una volta sui film che uscivano un po' spinti appunto sarebbero capaci di fare censuriamo buttiamo via dalla nostra coscienza qualche volta inconsapevolmente facciamo proprio una bella rimozione ma qualche volta ci mettiamo su proprio la croce sbarrata e non permettiamo alla verità di entrare la teniamo fuori 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 più fuori dalla porta appena appena si accenna che si avvicina la porta è sbarrata è chiusa ermetica e questa qui è pigliamone coscienza pigliamone coscienza possibilmente presto possibilmente più presto che si può meglio è è vero non c'è fretta se vogliamo perché poi quando uno si affretta troppo su queste cose forza e non apre nessuna porta fa finta di aprirla ma al momento buono apriamo questa benedetta porta io sono la porta e busso colui che mi apre io cenerò con lui e lui con me queste cose qui dice Gesù nella lettera dell'Apocalisse che è la più pepata contro appunto i suoi destinatari ecco ma la cosa migliore di tutte non è nonostante questo questo è una grande perla questa incomprensione dei discepoli che hanno paura di interrogarlo non capire eh vabbè ma non fare domande perché eh ma perché sono timido di per piacere una bugia credibile una bugia sensata ma non dire sono timido non dire sono riservato così non è nel mio carattere queste sono proprio bugie di un infantilismo che nessuno di noi qui dentro cari fratelli e sorelle può permettersi non è una cosa accettabile non diciamo così abbiamo il coraggio di domandare e poi però ci vuole anche il coraggio di aspettarsi una risposta eh basta quello lì la cosa bella di questo Vangelo però è soprattutto la pazienza di Gesù allora se prima con Pietro Gesù proprio aveva gli era saltata la mosca al naso come si dice e non aveva fatto prigionieri aveva risposto in maniera molto molto vibrata e sferzante e così invece sembrerebbe proprio che il maestro ha capito che il livello dei suoi discepoli è quello lì non può chiedere subito più di tanto abbassa le pretese nel racconto di Marco ci sono tre cosiddetti annunci della passione di Gesù ci manca ancora il terzo arriverà perché ci deve essere nella liturgia se non domenica prossima sarà di qui a poco e vedremo che lì Gesù avrà ancora più pazienza meno capiscono e più lui diventa mite e questo è un altro grandissimo dono ancora più grande del primo primo ci fotografa e in questo senso qui ci regala una sana consapevolezza dei nostri limiti teniamocelo strettissimo questo regalo ma teniamoci ancora più stretto quest'altro fatto che appunto nei confronti di chi è duro Gesù non fa il duro il contrario anzi sceglie perfino ripone un linguaggio come si dice oggi non verbale il linguaggio del corpo il corpo dice sempre più la verità della nostra mente sempre il corpo non mente mai il corpo mica per niente il verbo si è fatto carne ha preso corpo perché era veramente il modo per arrivare a dire la verità tutta intera e allora teniamoci in mente sto qui con questa immagine qua Gesù che abbraccia un bambino Gesù di Marco poi non è tanto un sentimentale quello di Luca di più senza dubbio ma quello di Marco è un duro è uno che non concede facilmente gesti di affetto però quando li pone diventano veramente insuperabili e questo è un caso e questo è un caso mettersi al servizio degli altri invece che pensare a primeggiare anzi se vuoi veramente primeggiare mettiti a servizio degli altri perché i discepoli per rimuovere meglio la parola di Gesù così impegnativa per evitare ancora meglio di fargli domande insomma cosa vuol dire che il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani degli uomini e sarà ucciso invece di pensare a quella roba lì che è veramente una spina nel cuore si sono messi a pensare a cose più come dire un po' più frizzantine ma chi di noi è il migliore facciamo la sfida vediamo un po' chi può primeggiare davvero e Gesù la risposta la dà appunto siccome non è tonto ha capito che sti qua cercavano di evadere il problema occupandosi più entusiasticamente di se stessi ha capito e però non si è arrabbiato che bello non si è arrabbiato non gliel'ha dette di tutti i colori tanto non serviva gli ha fatto semplicemente vedere un gesto e poi appunto ha aggiunto sta parola qua chi vuole essere il primo sia il servo di tutti e cominciando da un ragazzino persona socialmente parlando più considerata la più inutile in quel momento ecco vale proprio la pena che noi apprezziamo che la Chiesa ultimamente nella liturgia ha proprio introdotto questo saluto cui facciamo ricorso di frequente Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi grazie a tutti